In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo, «Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire, se gli dei che i vostri padri hanno servito oltre il fiume oppure gli dèi degli amorrei nel cui territorio abitate, quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore». Il popolo rispose, «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi, poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio». Grazie.